non da terra ok io sto andando tu sei indietro io ho superato la nerd da la pioggia è una casa hai 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 ti aspetto di qua, di qua io sto seguendo anch'io a quante persone mi seguite mi seguite aspetta mi fai a prendere a me st'arma ok però hai terrato un'arma aspetta ai chung camion chung camion chung camion dov'è chungi 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 Ok Oh ci sono altre persone Ma perché mi respiro Un attimo Io sono così dentro la nebbia Mi spazio Mi sto scrivendo Che gianta Ok 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 io sono quasi dentro il cerchio io sono dentro dov'è? bravo tiro giusto le bombe X a te con questa 3 no solo tu ok ok io non ne faccio mai si è entrato ok 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 dai balla con noi andiamo in spiaggia andiamo in spiaggia aspetta andiamo dove c'è la nera così la così la così la non pensai X schiacciamo capi io io ti sto ti sto seguendo ti sto seguendo aspetta mia madre è sei non secondo te io lupo lupo salve allora io sono sopra di te ma dai ma dai io sono un hacker ai sono io io and selon io tutto mio ok dice mio nonno dice mio nonno che ritardai ma non lo giuro tu non lo giuro ahi sta ahi sta ahi 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 no no non entro non entro savi savi nooo ahi ahi preparate ahi preparate ahi ma perchè mi capitaz un prestigio ahi 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 ma tu me le puoi regalare la skin e poi me le regalo però una bella quanto oh ahi 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 ok 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 via io sto io sono andato io sono andato io ti vado io ti sto vedendo io ti sto vedendo io ti sto vedendo e salvi un attimo ti stai fermando a 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 ma ci siamo solo a 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 una persona e che bello c'è di una macchina da mi sono anche tra di te con la macchina però qualcuno ci spara no no vai un attimo vai a a a a a a a a a c'è uno, Samy da me! Sì, non dirita! Sì, non c'è, non c'è, non c'è! Sì, non c'è, non c'è! Ma io, io ma io! Sì, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è! Sì, non c'è, non c'è, non c'è! Samy, dove fai? Sì, non c'è! Sì, non c'è! Ok! Oh, c'è uno, c'è uno! Ma che... Ma l'ho bussato! Sì, non c'è, non c'è! Sì, non c'è! Sì, non c'è! Non c'è, non c'è! Sì, non c'è! Che fai la tua! Che lato? Sì! Aiii... Sì, non c'è... Sì, non c'è! Sì, non c'è! Devo attivere pure a noi la bomba. Ok. La prossima volta quando un nemico è lontano. Tra quanto? Tra quanto? Troppo. Troppo. Tanti minuti me ne devo andare. Vai. A mio nonno gli serve la... la... la tv. Che? Eh... Ah! Sì. Sì. Aspetta. Sì. Sto belando l'acqua. Io non so dove sei. Ok. Sì. 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 Ti vado. Ti vado. Eh io sono soffermi. Aspetta. 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 Sì. 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 E tu asceglie niente! Bravo! Xavi! Xavi Xavi! No, è a terra, è a terra Ho killato io veramente Però mi lasci killare il problema Oh c'è uno, me la lasci fare a me Tu ho messo l'altro, ho messo l'altro A terra, a terra, l'ho messo a terra No, 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 aspetta No Ok Metti pronto No, sono riposto Ok A mio nonno Sai, c'era una cassa L'ho visto da quello Tu lo fai Dove sei? Dove sei? Tu dove sei? L'ho visto? Io sono già, l'ho L'ho cliccato Dove c'è la città, la cittadina Ok Oh c'è un amico Dove? No dai Questa mia Chi ormò Chi ormò Chi ormò Chi ormò Già c'è uno, già c'è uno Dai, lo finisci L'ho finito Dov'è? No Dov'è? 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 Dov'è un amico Mettino E' una cosa Maria E' una cosa E' una cosa Se magari per dire Voi Forse sono Chi E' un amico Chi Che lo fanno Firmare Dove, dove Ti sarrono le bombe Sali, spostati Sali, spostati Corre Non Dov'è? Sali Dov'è? Dov'è? No Bravo Sali Ma tu C'è? Mi fate un mode Per frenare un po' Aspattaci C'è il tassi Vabbè con lui L'uomo dopo Vediamo se C'è 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 un'altra cura le sto mettendo io ne ho tu qua ma quante però però le bombe le devi usare quando ci sono alcuni però che siano lontani andiamo a pochi macchi dai gillalo che lato però tu l'hai messo a terra quindi mi devi partire aspetta e non lo so dove aspetta dai come ok qua c'è carburante ok vieni qui ancora 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 io basta ti puoi prendere quella macchina io faccio di io faccio di testa mia c'è Fantastico Io sono da te Io sono riegata al mare ecco ok io sono qua da te io sono dentro la macchina ok pari come si andi ok 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 tu bida tu bida tu giochi a memoria certo perché tu ci giochi da tante che ti giochi c'è l'acqua 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 Ma tu quando dici le cose pure ti senti ridira La granata Ops No Ciao Perchè 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 bravo aspetta torniamo alla lobby solo tu puoi preferire le foglie di cappù non condividere l'acqua ok ancora no e devo andare devo andare a a Ah! Grazie a tutti. 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 E' ancora tanto da imparare. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.